Il Consiglio regionale in particolare ha voluto rievocare la Grande Guerra per farne comprendere il significato, soprattutto nelle scuole. Lo ha fatto con un video intitolato La Grande Guerra 1915-1918 della serie Piemonte Memoria, pubblicato sulla social tv dell'Assemblea regionale. L'opera contiene preziosi materiali d'archivio e una rigorosa ricostruzione della vita nelle trincee, con interviste a storici come Gianni Oliva e Alessandro Mola.